Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati e bentornate sul mio canale e per chi fosse nuovo benvenuti in un video super speciale questo è il primo video della Edu3D Academy perché bene sì, anch'io faccio parte dell'Accademia Creativa della Giochi Preziosi e realizzerò per voi una serie di video creativi in cui vi mostrerò come realizzare tante creazioni super particolari ma soprattutto semplici, adatte per grandi e piccini utilizzando la Edu3D Pen e se anche voi realizzerete una creazione speciale utilizzando la Edu3D Pen mi raccomando condividete la vostra foto su tutti i social utilizzando l'hashtag Edu3D oppure Edu3D Academy e otterrete una simpatica sorpresa che sarebbe questo il diplomino personalizzato da creativo e per ottenerlo quindi condividete la vostra foto sui social e cliccate nel link che trovate nell'info box per compilarlo e quindi ottenere via email il vostro personale diplomino che poi potrete stampare e far vedere tutti i vostri amici in tante mi avete chiesto di potervi mostrare delle idee carine per carnevale per fare delle foto e io ho pensato per voi a questi simpaticissimi piccoli occhiali e baffetti che potrete realizzare sia da sole che con i vostri bimbi e ora scopriamo insieme cosa contiene il kit Edu3D Vertical la penna della Giochi Preziosi che ci permetterà di disegnare e costruire tantissime cose in tre dimensioni una speciale lampada UV che serve per indurire il nostro inchiostro in gel due Edu3D Pen una con l'inchiostro viola e una con l'inchiostro arancione ed entrambe cambiano colore a seconda del calore una mezza sfera e un ovale per realizzare dei progetti a tema le speciali punte che poi andremo ad avvittare sulle penne il foglio illustrativo che ci spiega come utilizzare le penne e un ulteriore foglio illustrativo che ci spiega come conservare e ripulire l'inchiostro della penna e per finire un foglio di plastica su cui disegnare prima di iniziare a disegnare prepariamo le nostre penne svitiamo il tappo e avvittiamo l'apposito beccuccio visto che oggi è un martedì grasso e quindi carnevale ho stampato degli stencil simpatici voi ovviamente potete scegliere lo stencil a tema che più preferite come vedete l'inchiostro della penna è molto denso e segue perfettamente la direzione in cui stiamo disegnando utilizzo entrambe le penne e alterno un po' i colori per ottenere delle sfumature particolari prima di indurire l'inchiostro voglio dare un tocco personale e particolare alla mia mascherina quindi aiutandomi con uno stuzzicadenti vado ad inglobare degli strass all'interno del gel per rendere più luminosa e glitterata la mia mascherina ora inserisco la piccola lampada UV nella penna l'accendo e piano piano la passo sopra l'inchiostro finché non si indurirà e come per magia come vedete l'inchiostro cambia colore e si va anche ad indurire la nostra mascherina super glitterata e luminosa è pronta quindi possiamo staccarla dal foglio di plastica adesso per dargli un supporto per poterla mantenere prendo una stecca di legno questa è una di quelle che in genere si utilizzano per mangiare il sushi per unirla alla mascherina utilizzo sempre un po' di inchiostro che poi anche questo vado ad indurire con la piccola torcia UV e voilà la mia mascherina è pronta e allo stesso modo vado a prepararne tantissime altre magari con dei baffi o degli occhiali a forma di cuore e adesso sono pronta per scattarmi tante foto simpatiche e divertenti a tema carnevale spero che quest'idea semplice vi sia piaciuta fatemi sapere se conoscevate già queste penne e qual è il prossimo progetto 3D che vi piacerebbe vedere e adesso io vi mando un super bacione un abbraccio vi ringrazio per la visione e noi ci rivediamo nel mio prossimo video ciao